Ivan Juric, tecnico della Roma, ha parlato così dopo la sconfitta 3-2 contro l'Ellas Verona, a livello di gioco grandi passi in avanti, creato e giocato, abbiamo commesso però errori gravissimo, sul risultato grande passo indietro, sul gioco grande passo in avanti. Momento negativo, non bisogna mollare mentalmente. Roma, ancora Juric, i cambi, Dovbic non ce la faceva più, per questo ho messo Baldanzi. Vivere il calcio a Roma è difficile rispetto a Verona o Torino, a Verona e Torino si sono fatte grandi cose. Roma è una piazza eccezionale al di là del momento di difficoltà. Per me Verona è casa mia, la mia anima è legata con la città. L'Ellas, guidato da Zanetti che è un grande professionista, penso che si salverà sicuramente. Troppi errori grossolani, la squadra ha dimostrato che ci crede, errori grossolani come oggi li ho visti poche volte, bisogna analizzare questo aspetto, poi spero che anche gli arbitri non commettano più errori grossolani anche perché non è la prima volta. Grazie.